Le quattro stagioni raccontano la natura attraverso la musica di Vivaldi, con le sue celeberrime concerti per violino detti appunto le quattro stagioni, sono accompagnati da dei sonetti che descrivono appunto come Vivaldi vedeva la natura nel Settecento. I solisti aquilani con Daniele Orlando, violino solista, hanno rivisto un'interpretazione delle quattro stagioni vedendo la natura che vediamo noi adesso con tutte le sue bellezze ma anche con tutti i suoi problemi dell'inquinamento. Alternati alle quattro stagioni abbiamo pensato che la band di Maurizio Cappone e con i suoi strumenti riciclati, costruiti proprio con le cose recuperate dalla strada, dagli oggetti che le persone non usano più, loro hanno costruito degli strumenti. Suono riciclato si potrebbe dire, un messaggio per l'ambiente, un messaggio che anche la musica deve considerare. Lo Stresa Festival quest'anno guarda molto al green e questo concerto è il cuore di questo argomento che ci è così caro. Solisti aquilani, le quattro stagioni, riviste in chiave contemporanea e con la rock band di Maurizio Cappone, napoletano doc, a parlare di natura, a parlare di grande musica, al maggiore.